Musica Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono Brutal e oggi signori siamo su Clash of Clans nel primo episodio di Road to Max del TH10 in questa nuova serie ragazzi vedremo quanti video occorreranno per portare il villaggio da TH9 Maxato a TH10 Maxato questo è il primo episodio e già vi porto due miglioramenti che stanno per terminare come potete vedere sta per finire il laboratorio e la fabbrica degli incantesimi sono state le prime due cose insieme all'inferno che finiranno domani che sono andato a mettere a fare per togliermele subito dalle palle in modo tale da poter cominciare a migliorare le truppe da TH10 perché quelle da TH9 se vi ricordate le avevo fatte tutte, ero completamente Maxato quindi adesso andremo a fare un pochino di giardinaggio, toglieremo gli ostacoli e poi andremo a far partire qualcosina dunque ho pensato di tenere l'oro perché domani finiranno le inferno e quindi ci sarà un video speciale non appena riuscirò a caricarvelo dove in pratica andremo a spendere un po' delle gemme che ho risparmiato per ben due anni signori perché io ho due anni che gioco ormai e in due anni ho speso soltanto 150 gemme di quelle che mi ha dato il gioco ovviamente io parlo sempre di quelle che mi sta dando il gioco perché sono completamente no jamming intanto è finito, eccolo qui il laboratorio mamma mia è veramente bellissimo e direi signori madonna c'è ancora un miglioramento ovviamente quello da TH11 incredibile direi di andare a fare subito qualcosa insieme ragazzi io mi toglierei subito dalle palle qualche truppa per le war visto che comunque i reali ce li ho già a livello 30 sono un buon livello non appena sblocco il bocciatore lo porto su perché è over power ma direi signori che vado a cominciare con... mamma mia che scelta raga vado con le valkyrie raga vado con le valkyrie che costano di più dei golem e il prossimo upgrade col nero col nero sto dicendo saranno sicuramente i golem per il resto poi vedremo le valkyrie mi servono veramente tanto le uso veramente tantissime in war e mi piacciono un sacco quindi ho deciso di farle immediatamente quindi abbiamo fatto partire il laboratorio facciamo il giardinaggio intanto vi stavo dicendo che io sono completamente no jamming signori queste 5033 gemme sono state prese tutte da come state vedendo il giardinaggio che stiamo facendo insieme adesso e ovviamente anche le casse di gemme che si trovano in giro forniscono un buon quantitativo di gemme in due anni e dalle sfide che ho completato quasi tutte ormai ne mancano veramente poche ovviamente quelle più lunghe da fare ma se vedete le ho fatte quasi tutte molto molto bene sono veramente contento di quante gemme sono riuscito a mettermi via da parte per questo momento perché come vi ho detto signori magari qualcuno di voi ancora non c'era quando ho messo quel video ma le inferno sono le mie difese preferite in assoluto e da quando le sbloccavo mi ero ripromesso di portarle direttamente al 3 senza mai farle sparare nemmeno una volta ed è così che intendo fare quindi fullarmi il deposito di oro mettere via più oro possibile anche qua nella tesoreria e poi andare a colmare il divario con le gemme in modo tale da portarle direttamente a livello 3 ovviamente lascio andare tutti i tempi di costruzione eccetera le gemme che andrò ad usare le userò soltanto per prendere l'oro che mi manca perché sostanzialmente non ci sta nel deposito per farle tutte e due contemporaneamente ragazzi direi di andare a fare subito immediatamente una caserma di livello 7 ecco qui così fra ben 12 giorni avremo i bocciatori che sono una truppa veramente molto forte da quanto ho visto che me li hanno usati contro andremo poi ad imparare ad usarli in war insieme signori perché ovviamente dato che li sto sbloccando adesso e non ho mai avuto th10 nel mio clan non li so usare cioè ho avuto th10 ma non ho avuto l'opportunità di provarli magari in war nel mio castello o cose del genere quindi signori siamo andati a spendere un bel po' di elisir direi che qui c'è l'altra rivella di nero che non aspetta altro che essere fatta partire quindi andiamo subito a farci un attacchino insieme per recuperare un pochino dell'elisir speso dopodiché andremo a far partire la trivella inoltre signori vi volevo anche dire che come state vedendo ho impegnato tutti i 5 muratori appena passato e con un muratore che è questo qui che ora vedete sulla torre degli arcieri praticamente ho portato le trappole tutte a un livello solo dal pareggiarle con quelle che avevo già e sto tirando su contemporaneamente cioè contemporaneamente ma una alla volta ovviamente torre degli arcieri cannone miniera d'oro e estrattore di elisir nuovi signori detto questo bando alle ciance partiamo subito con l'attacco così poi facciamo ripartire il muratore ok signore abbiamo trovato un villaggio con veramente tanto 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 elisir dunque a noi interessa principalmente l'elisir rosa qui c'è anche parecchio nero ma vedo anche che c'è una torre infernale qua settata su danno multiplo e in più io non ho nemmeno gli incantesimi quindi ragazzi abbiamo i nostri reali al 30 vediamo un pochino quanto elisir riusciamo ad andarci a prendere speriamo bene allora direi di mettere subito immediatamente i curatori che tanto l'aerea non dovrebbe dare troppi problemi andiamo a mettere qualche arciere qui per pulire un pochino sperando di riuscire poi a far entrare i nostri reali quindi io a questo punto metterei il nostro re la nostra regina che dovrebbero andare all'assalto malamente qui intanto i giganti decino di non spaccare il muro purtroppo addirittura alcuni vogliono uscire no non escono ma purtroppo rimane lì la difesa aerea cazzarola ragazzi non ci voleva in più ora ci sono le torre infernali che stanno andando a distruggere malamente i nostri giganti ma vediamo un pochino se con i reali al 30 raga riusciamo a fare un po' di devasto perché comunque ragazzi questi reali sono ormai a livello 30 non è basso come livello devo dire sono veramente veramente molto molto forti peccato che qui la torre infernale è dall'altra parte del muro se qui il re con l'abilità me l'avesse distrutta immediatamente sarei stato veramente veramente molto molto contento qui purtroppo la regina ci è andata a morire malissimo e rimane qua il municipio con zero di vita quindi direi di andare a tirarci giù il nostro municipio e prenderci un altro pochino di elisir ok mettiamogli la velocità in modo che loro riescano ad arrivarci tranquillamente tranquillamente un paio di palle però comunque siamo riusciti a portarci a casa anche il municipio e noi signori con il 37% e una stella ce ne torniamo a casa ok ci siamo comunque presi 284.000 di elisir non è tantissimo quindi faremo un altro attacco ma prima andiamo a mettere immediatamente a fare la nostra trivella di elisir nero a livello 2 che ci occuperà ben due giorni il muratore signori la trivella è partita io ora aspetto le truppe e noi ci rivediamo non appena le truppe saranno pronte per andare a fare un secondo attacco insieme rieccoci qua tornati ragazzi non vi preoccupate ve lo dico subito non è sparito quell'elisir che vedete in meno semplicemente sono andato a mettere il nuovo esercito e anche gli incantesimi signori perché ho finito la fabbrica degli incantesimi tra l'altro è veramente molto molto bella da vedere e può fare un incantesimo in più signori tanta tanta roba mi posso portare dietro un assalto due furie e due cure roba che quando farmerò pesantemente ovviamente non in live perché gli attacchi in live non riescono quasi mai belli ma quando farmerò pesantemente offline mamma mia che roba che si potrà combinare anche con gli incantesimi per andare a prendere il nero signori sono entrato nel giro delle cose da un giorno quindi mi manca un giorno qua per la miniera d'oro ecco vi faccio vedere sono tutte cose da un giorno la miniera il cannone ecco qui il cannone la torre dell'arciere già la sto facendo quella da un giorno un giorno anche per il nostro estrattore e quindi poi ci mancherà anche un giorno per tutte le trappole perché le ho messe a questo punto qui in modo tale che poi con lo stesso muratore una cosa alla volta di un giorno un giorno un giorno vado a farmi tutto come vedete le trappole che mi mancano per essere pareggiate non per portarle al massimo ma per essere pareggiate a quelle che ho già mi manca dappertutto un giorno quindi con il quinto muratore signori io mi andrò a fare le mie belle trappolozze da domani comincerò dopo che è finita la torre dell'arciere e inizierò a portarmele a pari a quelle che ho già successivamente ragazzi dopo aver portato le due o meglio dopo aver messo a fare le due inferno a livello 2 mi porterò magari un filino avanti con le mura che le voglio ovviamente pareggiare a livello 10 oppure signori fullerò il deposito e magari facciamo in un episodio dove andiamo a mettere giù le ultime due difese che mi mancano che sono la torre bombardiera e l'ultimo arco X detto questo ragazzi io vi ho spoilerato che cosa ci potrebbe essere nei prossimi video andiamo a farci il secondo attacco insieme dopodiché ci andiamo a salutare ok signori ho trovato un inattivo non è strapieno ma penso di accontentarmi per il semplice fatto ragazzi che voglio farvi vedere la differenza fra un villaggio che non ha l'inferno come questo e il villaggio precedente che aveva semplicemente un inferno all'uno messa totalmente a cazzo quindi andiamo a prenderci subito queste miniere ed estrattori che ci sono qua con un paio di giganti e qualche arciere ecco ma Nigel mi ha andato troppo tardi il gigante ma ok perfetto ce le siamo presi andiamo a fare la stessa cosa dall'altra parte dopodiché partiremo cattivissimi sull'altro lato con anche i reali no 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 dai fai in tempo fai in tempo ok ho salvato gli arcieri questa volta muy muy bien perfetto raga guardate la differenza tra inferno si e inferno no è qualcosa di veramente micidiale io sicuramente è soltanto una mia opinione personale ci sarà sicuramente chi pensa che la difesa più forte è quella dei TH11 com'è che si chiama la difesa aquila lì il cannone falco come cazzo si chiama lui comunque secondo me le inferno raga spaccano veramente i culi e tra l'altro adesso devo dire che sto trovando praticamente il 90% dei villaggi che vedo in farm le hanno le inferno almeno all'uno quindi mi toccherà iniziare magari a farmare portandomi dietro una gelo anziché magari due cure o due furie dovrò poi scegliere magari ditemelo voi nei commenti che cosa fareste al mio posto intanto noi con i nostri reali al 30 con anche dietro i curatori stiamo andando a fare veramente il bordello ci pigliamo un pochino di oro qui mentre i giganti entrano belli easy proprio scegli da dio la nostra queen si sta prendendo la difesa aerea ok intanto sono morti proprio in questo momento i curatori noi ci andiamo a fare un pochino di percentuale per prenderci qualche stelletta in più e in più ci andiamo a prendere fino all'ultima goccia di elisir che è quello che stiamo cercando andiamo ad usare l'abilità del re in questo momento mamma mia ragazzi reali che cosa non sono al 30 adesso vabbè signori c'erano lì 24 milioni di torri dello stregone a distruggere il tutto ma signori quando il re evoca i barbari esce un altro esercito è veramente assurdo e non sono al 40 quindi ci sono ancora ben due livelli dell'abilità non vedo l'ora di vederli al 40 signori veramente overpower noi ci siamo fatti il nostro 62% lasciamo crepare la queen quindi siamo arrivati al 63 e senza usare incantesimi ce ne possiamo tornare alla base muy muy tranquilli signori penso di avervi mostrato molto molto bene la differenza fra inferno si e inferno no è veramente bestiale come soltanto un inferno possa cambiare il corso della battaglia naturalmente come nel nostro caso se non avevamo incantesimi perché se avevo l'assalto per mandarci dentro i giganti con la furia oppure se una semplice gelo sarebbe stato totalmente diverso ma noi non avevamo gli incantesimi e senza incantesimi ragazzi le torre infernali sono una bella spina nel fianco ecco perché le voglio al 3 il più velocemente possibile signori io spero che questo video il primo video di road to max del mio canale vi sia piaciuto se il video vi è piaciuto signori lasciate un mi piace un commento io vi saluto e vi ringrazio tanto qui dal vostro caro brutal è tutto bella raga ciao ciao Grazie a tutti.